ok il titolo non è dei più originali ma è solo per proporre una giornata di formazione tra i vigneti delle langhe patrimonio dell'umanità unesco e nel pomeriggio la visita a un'azienda agricola locale e adesso vi leggo il programma allora sabato 24 settembre alle ore 10 ritrovo dei partecipanti sulla piazza del municipio di monforte d'alba c'è un grande parcheggio e colazione offerta dall'organizzazione poi andremo a camminare lungo una tipica strada di langa tra le colline tra i vigneti castelli cascine pranzo a monforte in un locale tipico con la possibilità di degustare le specialità langarole e poi nel pomeriggio andremo a fare esercitazioni di fotografie del territorio di prospettiva di iperfocale e soprattutto di uso del flash in luce diurna in mezzo ai filari e ai vigneti spostandoci ad ogliani qui saremo nel territorio di un'azienda agricola che andremo a visitare nel tardo pomeriggio con possibilità di degustare e volendo acquistare i prodotti locali docenti io e roberto giacchino attrezzatura consigliata obiettivi grandangolari per gli interni della cantina e anche per i filari per esaltare le prospettive ma anche io consiglio un obiettivo normale o leggermente superiore al normale per il paesaggio e la fotografia del territorio raccomando il flash un flash esterno che ci permetterà appunto di giocare con i contrasti con i controluce compensando appunto le differenze di luminosità e fortemente raccomandato anche il cavalletto il costo 60 euro a persona da versare mediante bonifico bancario gli interessati mi scrivano come al solito all'indirizzo che compare in sovraimpressione e che è anche riportato sotto nella descrizione del video io in risposta manderò le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sarà rilasciata ovviamente regolare fattura quindi chi si iscrive dovrà anche comunicarmi i suoi dati fiscali per permettermi di preparare la fattura termine ultimo per l'iscrizione il sabato precedente quindi il 17 settembre grazie per l'attenzione e arrivederci il 24 settembre nelle langhe grazie per la visione